e dunque viene il Corotishkin, stato più volte campione europeo, campione del mondo in basca corta prima pista del mondo, l'argento olimpico per lui, grandissimo campione in gara deve vedersela con gli azzurri, da un lato c'è Puglia, il campione italiano in carica dall'altro Patinelli, la prima pista italiana in carica, proprio la sfida delle corpi centrali Fodia, Corotishkin, piena Fodia, Italia-Parte-Russia in questa prova